La prossima composizione è stata scritta da Giovanni Pacini e dedicata ad un grande Dante Alighieri. È stata scritta proprio dal catanese Giovanni Pacini e dedicata per la prima volta a Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d'Italia. L'opera fu composta in occasione del sesto centenario della nascita di Dante Alighieri ed eseguita a Firenze dalla banda della Guardia nazionale italiana su adattamento per strumenti a fiato di Giacomo Simpeni. Da allora solo poche volte è stata eseguita pubblicamente. La cadenza iniziale del clarinetto e del flauto anticipa l'arghetto angelico che è ricco di melodie. Grande applauso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.